buonasera ed ecco che sentite anche gli altri buonasera ciao ciao come abbiamo avuto dei piccoli problemi tecnici che forse ora si sono risolti forse ora vedremo perché non riuscivo a prendere un microfono e come avrete notato in questo gioco è importante che il microfono si riesca a prendere qui squiglie proprio in realtà però fa piacere potervi far partecipare poter giocare e adesso stanno andando anche problemi di questo coso così fai tasto destro no 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 ecco pardon si lascia stare sto gioco è fatto male sotto molti aspetti e ora possiamo iniziare quindi e vai così poi che riesce a medicare i livelli se vanno bene dell'audio anche se non credo sono contento di avere una buona linea internet che mi ha permesso di installare velocemente il gioco chiaro che mi ha permesso di avere una buona linea internet che mi ha permesso di vedere sul disco ora discordo che se no non sento gli effetti sononi infatti quelli cambia tutto spettacolare il gioco sembra funzionare siamo a cavallo quindi si inizia col gameplay gameplay che iniziamo al solito modo oh vai vai no però in inglese esatto inglese no inglese inglese per favore inglese ok questo gioco è sempre collaborativo niente vogliamo farli entrambi magari farlo uno di favore lume ti al lume ti al lume ti al ecto lume e obi kenu obiwan namet ecto il pianeta namek ecto namet di nuovo il pianeta namek di nuovo il pianeta namek opun obi majinbu namet atual di nuovo il pianeta namek namet atul niente no 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 ecto veloce agni muno e la no ecto plasma agni munio afghanistan munio namet munio atul ecto e tu atul agni udano tem ugraina che succede cazzo le tue abbinamenti proprio di nuovo afghanistan per forza ok e no è che mi ha ha fatto la solita cosa di muro di testo che mi diceva si sto mettendo poi magari dice no non ci riesco ma boh nuovo no niente no proviamo cosi imahaki nuovo no ok english nuovo no nuovo no 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 guarda sono delle meraviglie delle meraviglie beam of light almeno l'inglese lo prende almeno questo e niente ci dobbiamo inventare l'inglese ma no ma in realtà scusa che ci sono stati problemi ci sono stati vari problemi ma ci sono anche ora no infatti non sono risolti i problemi stiamo stiamo semplicemente condividendo i problemi sto gioco è fatto per essere fatto vedere in live per vedere i problemi mentali che si crea niente non lo mette più l'inglese non so nemmeno perché non ci esce più l'inglese no ma senti come è nel bus ecto lume o minke nu na me na me tecto e parte di vino o pu no bi na me tecto no te ma tu la pun e yegamide i bonnetto guarda che quasi quasi forse è meglio giocarlo in lingua originale perché vedo che ce l'ha a green munio eh sì ma è vero sì guarda il problema è ricordarselo nel momento esatto munio na me tecto a tu leccio a tulagni udano tem prova ok e abbiamo detto in maki fa la linea di testo ecco quello di testo si chiude no ancora un muro di testo capisce si chiude e io dico in inglese ora grazie prego prova prova a chiudere il gioco e riaprirlo io non voglio chiuderlo perché non vorrei che di nuovo perdo il microfono eppure c'è ragione e allora diciamo gli incontesi no vabbè più che altro cerchiamo di ricordarceli a memoria no no ma prende quello in inglese guarda appunto let there be light perfetto andiamo a memoria bimoflite prende anche la voce tipo neanche la coglionaggine si si no ma prende anche i digimon devo uscire i digimon agomon dice volve no bimoflite no ma la coglionaggine non funziona ti perdi tutti gli autun e pumen che netto il cielo è azzurro su londra niente ci ho provato non è che adesso ho capito cosa devo fare veloce veloce che sono ho fretta ora si può andare avanti nel gioco bimoflite 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 no no le richiede proprio il tempo bimoflite e vengarvi un liviosa dopo lo proviamo vengarvi un liviosa vengarvi un liviosa è un appassionato di harry potter e non tanto perché comunque lumos non lo vuole capire e non lo vuole capire lumos lumos le ginocchia leviosa non leviosa eh lo so che era troppo presto aspetta tu allora aggiornato ora questa è questo vediamo un attimo se riesco a farvi vedere quando ho capito l'occhio era occhio sembra una specie di realtà di questi davanti ai quali in tempio venivano eseguiti strani rituali non so come venga utilizzato devo fare attenzione alle iscrizioni che trovo potrebbe liberarsi qualcosa di utile di riguardo perché io devo andare a vedere no aspetta era solo quello della luce forse no modi si installa il gioco per spazio adesso si installa windows direttamente ciao zampa ciao zampa no niente non riesco a trovarlo comunque avevamo trovato un'iscrizione che diceva che quando si va verso questa divinità a testa bassa devi stare solo il penitente può passare qui l'avevamo anche fatta e ti sei sbattuto contro hai perso coglione grazie sguardo fisso ma sei sicuro che funziona così cioè devi dare le craniate contro i muri da un lato e dall'altro finché non si apre sì dovrebbe partire proprio una cutscene che poi c'è l'audio si sente ecco let there be light beam of light all'omora prova all'omora all'omora no vuoi vedere che devo trovare l'iscrizione che mi dici di fare quella roba e non l'ho trovata lo fa venire voglia di ricominciare da capo solo per fare tutto in fretta eh c'è la musichetta ma non parte nulla non posso manco tornare indietro bestia come dice Cannars la prego signora mi può far passare vorrei andare avanti in questo gameplay grazie mille non è che devi stare tipo fermo mezz'ora eh magari devi stare tipo sì ah beh ok stiamo chinati nel nido qui vorresti a pangettons come sai che si racconta eh ma non stai stando fermo eh ma non stai stando fermo però eh eh e se ne va eh vedi non c'è la pazienza facciamo tutto così il maestro Miyagi è molto preoccupato no ma così ok è l'animeria pensavo fosse il rumore del gioco no è l'animeria che si lamenta non mi avete ancora dato la cena posso avere la cena solo le 21 e 32 siete ritardi di 3 minuti beam of light ho fatto il beam of light giù e ora mi faccio il più penitente possibile funziona? oh ma si sta lamentando del gioco ma perché non funziona? e se c'è avete un po' di mortadella grazie bello mi ha convinto eh mi ha molto come si chiama questo show? sono proprio andato nel gameplay a vedere dove andava così funzionava così non so che dire funzionava così ok? mi dispiace vabbè allora ci deve essere un qualche oggetto condizione prerequisita eh appunto quindi ci si rifiuta tutto il giro sì stai dicendo esatto ho parato non funziona c'era scritto sulla guida non posso saltarlo no 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 te lo ripeto no è veloce che ormai la conosco non resta a parte la facciamo di corsa neanche mi metto a cambiare le parole della magia nonostante Rossi lo consideri vero gameplay un bel vivirtus andiamo ah ok ci siamo dai dai bravo bravo corri 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 ciao appena iniziato non sto capendo un cazzo sì contalo come appena iniziato ok perché la guida non mi ha aiutato come ha detto Massimiliano ci mi ha fatto proprio vedere che abbiamo perso un po' di tempo con la configurazione dei comandi per dirla in questa maniera sì anche cercando di fare il penitente per passare ma non ha funzionato non è barato e ce l'avevamo collocati l'altra volta è un appena barato e quindi tu lanci magie sì endocampo non lancia granché allora lancio le magie vado avanti nell'esplorazione vedo cose attivo cose perché sto cercando di scoprire tutto su questa antica civiltà ah ok quindi stai scoprendo un'antica civiltà sì dei ma-ha-ki ma-ya-ha smile-a-hi smile-a-ha sì e poi sembrano ideogrammi cinesi misti un po' ad ebraico e si vedo qualcosa di indiano non dico cosa Ross si diverte molto in questi gameplay perché mi prende per il culo per qualunque cosa tipo adesso che dice che le sputo male le magie ma scusami non ti prende per il culo nei gameplay no ce ne sono alcuni in cui invece è molto gentile Harry Potter sì è molto gentile quando magari quella sera non c'è ecco così si deve fare sì mi ricordo come sei tu ecco allora adesso andiamo a prendere l'hummus vedo la magia guardo leggo dietro e andiamo oltre luce non è mica delle tenebre è tutto bello molto carino quando una delle due provare la luce e tenebre posso sentire la bagnante potere led derby light led derby light oh vedi uno dei primi segnamenti del pellegrino è l'evocazione della luce questo per ricordare loro che prima di tutto devono essere portatori di verità e illuminare laddove la tenebra accella il creato con la falsità vedo abbastanza compresso sul disco compresso nel senso sei quadrettini quadrettini no peg la compresso possibile che sia o è discord o è l'unreal led derby light qui c'era qualcosa che ho dovuto leggere no è pura lore via la lore no la magnum non l'ho presa e la si prende più avanti magnum let derby light ecco qua oplalai eh sto attento perché tanto arrivo al punto in cui sapete che ho dei problemi seri i salti eccoci qui si scende so che il tuo già non era per la questione dei salti quando ho detto problemi seri salvo eh già voglio bene anche io rosso oh oh e giù ahia no 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 e ti si chiama invino veritas vada che davra sto giorno in vino veritas è come mi ridurrò io al quinto gameplay con grano salis si dicus bigus come dice Andrea bigus dicus è per gli amici in verbis virtus giusto? in verbis in verbis veritas tarpe diem ecco quando la luce sorge le tenebre sempre adesso col beam of light cambia tutto quando dalle tue mani sgorga la bagliante germoglio non senti qualcuno che si avvicina le tue spalle non si fanno improvvisamente più pesanti come se qualcuno primesse l'oscurità non ha paura non ha ragione di vedere perché la sua sorella va bene questo dice che l'oscurità è abbinata alla luce quando la luce ti fa condottiere ricorda che le ombre ti accompagnano per mano finché la tua vita non si spegne i loro denti sentirei pancrettare con la tua anima non ne sei felice anche tu ora sei nostra sorella quello che adesso so è che dicendo beam of light posso scagliare un raggio di luce scenda alla mia mano riguardo al modo in cui questa energia possa essere usata l'escrizione suggerisce enigmaticamente che il giusto colore alimenta il giusto alimenta il giusto comunque sei la sorella di questo mi hai detto che puoi lanciare beam of light dal tuo ano sì sì solo che per una questione di comodità beam of light lo fa dalla mano magari ce l'hai sulla mano l'ano possibile è un mondo fantasy si spiegherebbe perché esce così a spruzzo imparare l'incanto di raggio di luce era una delle massime aspirazioni dei giovani pellegrini i più vanitosi tra loro si sfoggiavano le loro abilità facendo rimbalzare la luce creando intricati componente o niente bom mi ricordo dove era l'escrizione beam of light questo è intanto il sistema così è una cosa almeno dopo dove l'altro? si spiegherebbe che funziona il cazzo sì sono contento che questo gioco vi piaccia tantissimo ma io non vedo l'ora che arrivi nei prossimi incantesimi guarda timo of light siamo prontissimi risponde anche nimera quando dice timo of light capisce che sta succedendo qualcosa e provo magari inizia a sparare luce ovunque ehm no ma lei è un raggio di luce si riempie sono carino ehm Cosa? I rumorini si vede, carini Mi danno i vertigini però sono carini Finali C'è un leggero ritardo di visione e sincronizzazione Fra il punto in cui siamo e quando scrivi Lo dico perché so che poi te la prendi se rispondi troppo tardi Anar wake No, non funziona più Ok, allora facciamo una prova Ora Let there be light 3, 2, scema chi scrive Beam of light Ah, dell'improvviso Eh no, che c'era la porta qui ma mi sa che l'ho superata Sì l'ho superata Eh c'è il ritardo nella lettura e scrittura Beam of light Eh dai che ci siamo quasi Tutto questo perché non ho letto una colonina nascosta Beam of light Vai col ride Vai col ride anti zanzà Questa è la sua condizione migliore Questa è la sua condizione migliore La condizione zampirone Eh ma ora arrivano i kamikaze aspetta eh Ma l'avete visto e filmato di quello che batte dark souls solo quei comandi vocali No I comandi vocali non mi ricordo L'ho visto uno giocare con i piedi Uno giocare con le banane Uno giocare con i piedi Dark souls 1 Tutto dark souls 1 no damage Due due comandi vocali Mi ha capito quanti beam of light Per finire Dark souls 1 Roll 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 Taka 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 roll Parry perry perry E diceva tipo Strike left Strike right Strike left Strike right Strike power Comunque è esatto quello che dico Rosso Tranquilla Eh che cosa orribile c'è anche chi ha giocato con dei pezzi di carne Dark souls Era questo L'occhio della trinità ti osserva ma tu non devi ricambiare Da lui devi andare a capochino senza fretta Poiché la pazienza è un dovere del pellegrino Solo al loro cospetto e non prima Potrai contemplare la sua grandezza Attendendo il giudizio della divinità Se sarai reputato puro di intenti avrai la benevolezza di Veritas Pensa da fretta Eh la pazienza No non è che non esploro È che è la terza volta che ricomincio Perché qualcosa non va In Abramo uno si dimentica di leggere quella cosa A BIM OF FLIGHT BIM OF FLIGHT È così che si sente Goku quindi La pazienza Mi manca la pazienza di Abramo E l'Ira La rabbia di Giobbe E l'Ira funesta sì Anche BIM OF FLIGHT Il memoria ormai lo faccio tutto Oh carino Il coraggio di... sì Il coraggio di Isacco La forza di Adamo E l'onore di... Eva Bravo O Gabriele Carco Era l'onore e il sospetto L'onore e il rispetto L'onore Perché guardi in basso Salvi i frame Come a GoldenEye 007 No adesso fa il penitente È il penitente che va piano devo fare Verso l'occhio Enigma Sì Ecco La musichetta è quella giusta Che belli 120 frame puliti stanno così Ah Stop Senti Più lento di così non so che dirti Potevi farlo ancora più lento Ok Ah Guarda qua Si è una bomba Ma è? Che texture Che... Ma vedi tutta la testa e le scena Sì sì la musica c'entra perché vuol dire che mi sto avvicinando Al momento clou Ma non è che devi andare in un altro posto e non solo lì? Vieni BIM OF LIFE Distruggi Distruggi tutto Scusa fammi capi tornaci Marchio del comando Che è marchio del comando? È l'altro potere che dovremmo sbloccare con sta cosa per poter finalmente andare oltre Degutare il penitente Ma così diceva la guida Il diario che si è aggiornato è per l'occhio Sembra una specie di altare di quelli che avanti del tempio veniva eseguiti strani rituali Non so come venga utilizzato Devo fare attenzione alle iscrizioni che trovo Potrebbe liberarmi qualcosa di utile Che è per quella cosa lì della Stare attento come muovo L'occhio della trinità ti osserva ma tu non devi ricambiare Da lui devi andare a capochino senza fretta Perché la pazienza è un dovere del pellegrino Solo al suo cospetto e non primo potrai contemplare la sua grandezza Attendendo il giudizio della divinità Se sarai reputato puro di intenti Vede la benvolezza di Veritas Allora secondo me devi semplicemente metterci più tempo Te l'ha detto così che devi andare a capochino Proviamo proprio ad entrare dalle scale all'altare qui a capochino Sì perché comunque Ah devi guardare il soffitto A capochino? Poggino frate E no quando Quando arrivi là Ah quindi lo devi fare incazzare Cioè arrivi penitente e poi guardi il soffitto Allora Che vero Però sta andando troppo veloce E ora ti vorrei guardare il soffitto? Sì Sì Guarda pure l'occhio Sei fermo? Guarda il soffitto Ragazzi nel video che ho visto io mentre guarda il soffitto Sì 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 Entra a capochino poi guarda il soffitto E rifallo vai Sì E poi si chiude l'occhio E allontanati un po' di più Prima c'è dalla No non da qua Allontanati un po' di più dall'uscita Adesso per i trigger vai Wyatt 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 cosa vuol dire? E vai E con la pazienza Se no non fai penitenza E questa è la camminata normale Secondo me stai troppo veloce Ma quando alzo lo sguardo verso l'occhio non devo guardare l'occhio Lui si sofferma sia sull'occhio sia sul soffitto in realtà Eccolo E che cazzo Cioè millimetrico deve essere però Sì cazzo Però ci avevamo preso da Questo cazzo di soffitto Ma vaffanculo Capo di Kino Il soffitto a capo di Kino Il soffitto a capo di Kino Il soffitto a capo di Kino? E quindi? Ma vedo Zin E' un gameplay quindi si può E questo su YouTube lo dobbiamo censurare Sì Ci metti due facce di Nimeria Nel video che ho visto Dove faceva vedere come si faceva Dopo c'era uno smile Non capivo perché Adesso ho capito Ecco qua Ecco il potere da Zin Ti adaluda Pronuncia questa porta No ti adaluda Ti adeguida Ma che fai con sta mano? E' zozzone No no Aspetta vabbè Si poteva approfondire la conoscenza Comunque metto Volevi fare come senatore? No su YouTube veramente Volevi fare come senatore? No su YouTube Sai quale senatore? Quale? Quale? E noi ci sconnettiamo un attimo torniamo tra un'ora Andata abbiamo perso il max Palpatino Al chiacchiare Vabbè Vabbè Veramente metti due facce di Nimeria come censura lì Vabbè Vai La propria valentà è un potere spesso sottovalutato La determinazione può portare risultati incredibili Riuscire a imporre il proprio volere ad altri esseri viventi E' una delle più grandi doti che si possono desiderare Che posizioni sia palese o celata poco importa Ma mandare senza avere un disegno prefissato è follia Niente più di una cosa dell'aspettata E ha detto Palpatine Una volta l'ho fatta io questo genere battute Crea la tua ragnatela Culla la tua emilia degli anni necessari Sappi aspettare e guarda sempre indietro per cercare i tuoi errori e porvi rimedio Gli oggetti che portano il marchio del comando possono essere attivati puntandoli e pronunciando Follow my will Questo è propriamente un incantesimo Questo non è propriamente un incantesimo Più che altro un ordine che l'oggetto è in grado di comprendere ed eseguire Di conseguenza possono usare queste parole Di conseguenza posso usare queste parole quando ho già un incantesimo attivo nella mia mano Ma bello Vimovlite, follow my will Ti esce tutte cose dalla mano Vimovlite Follow my will Va ben serviva un cazzo il Vimovlite Let there be light Shire be light Save Che succede? C'è una ragnolina che si lamenta e qua dite Che di sei matti? Vimovlite 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 Aspetta Aspetta Ok, non devo girare dall'altra parte Ma lo si può fare perché vi butto dentro qui Salto qua Lead there be light Ma Vimovlite beam of light ah hanno problemi con la luce eh ma sto redderby light a che cazzo detene alla fine è fa luce ho capito ma c'è già la luce si l'abbiamo detto pure l'altra volta dopo tre quarti d'ora a dire l'humus vabbè dai si vede follow my will è silente e muto è silente e silente noi eravamo ancora dissociati dalla battuta prima bello carico stasera eh max sì beam of light beam of light noto che ti stanno cagando dove andate struzzi sono io il vostro bersaglio coglioni poi proviamo con diverse parole con follow my way sì sì è informissimo max io mi dimentico sempre max che tu metti la chat che rimane la chat paziente la ferma chat quindi dov'è la proprietà proprietà così così sparisce sparisce sì a un certo punto no non mi dai fastidio rossa è che così almeno così almeno mi dimentico delle tue battute altre no quello mai bellissime queste modi scrivi pure adesso siamo in verbis ros in verbis ros per sempre durante us dobbiamo mettere una cosa speciale tipo che fare facciamo dire alla chat le cose che devi dire tu anal wake intendi per le magie ok poteva diventare veramente brutta come situazione se no 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 non ci conviene per niente ci bandiamo da soli nel giro di 10 secondi ok ora con 10.000 punti canali devi dirmi questo bannati ah ok qui devo fare in mo beam of light rosso bianco bianco devo arrivare là con il viola passando tramite i cristalli quindi ora tutto un giochino di riflessi e quei follow my will che fanno eh si spostano follow my will ma che cazzo stai a di ah no cazzo ah però aspetta vedi così si sono allineati follow my will ma che cazzo stai a di comunque vediamo così beam of light beam of lol ma nemmeno un accio è un è capito che si angola in maniera pazza e quindi tu riesca in modo che tutti si angola in maniera postate un po' come cazzo te pare c'è guarda qua follow my will se ne va la colonna affanculo dall'altro lato della scala follow cosa? follow my will follow my will scusa non mi piacere mai in genere ma è squirtato guarda là ma di la verità te l'hai risegnato? no solo che a due posizioni hanno e quando quella lì non va bene dove era prima boom devo sistemarle tutte insieme oh no oh no oh no mi ha fatto qualcosa è a tempo è a tempo di che? no ho solo visto come si superava quel punto non ho guardato gameplay dai 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 follow my will follow my will follow my will follow my will che c***o che c***o follow my will follow my will io lo vai via via grazie rossa gentilissima grazie grazie sento tutto il tuo amore nei miei confronti fichettina telecinesi questo è quello che diventa accio cosa fa di te un essere intelligente? guarda nulla al momento non sono le tue mani nei tuoi occhi ma la tua mente anche le bestie possono comandare le mani e reagire grazie alla vista ma quanti riescono a fare del nulla scudo e spada? tu non sei il tuo corpo tu sei la tua mente l'ammasso di carne che pulsa nel tuo cranio è soltanto il veicolo e il vero te non si vede non si sente ma si percepisce è il buio ah è il buio così come la luce ti osserva tanto più usi la tua mente tanto più progredisci tanto più loro sanno dove sei tutto è cambiato un tempo erano buoni vivevano per noi ma il tradimento nelle nostre menti non è passato inosservato né impunito e nonostante la storia sia cambiata tutto è uguale la verità ci ha reso liberi ma forse è stato proprio quello la nostra rovina proprio ora sto scrivendo usando il potere della mia mente mi è bastato dire mind over matter e la penna ha iniziato a muoversi secondo il mio pensiero inoltre le rune dicevano che tutti gli oggetti possono essere avvicinati o allontanati mentre vengono manipolati pronunciando come to me o go away dove è la mia mente dove è la mia mente davvero la mia mente così forte sto iniziando a sentire qualcosa dentro di me non so dire cosa sia ma certamente in me qualcosa sta cambiando ma non ho capito cosa faccio voglio vedere come mind over matter si mette a scrivere la penna come to me go away mind over matter non mi importa vai pure aspetta adesso mi serve mi serve un oggetto mobile un attimo ve lo mostro no devo passare dietro la colonnina cosa c'ha la mia piccolina parla con te Ross non tutti sono pronti a muovere gli oggetti con la forza della mente è un intervento sulla realtà che rende la forza della natura finora osservate meno assolute e molti preferiscono continuare a concepire il mondo così come l'hanno visto da sempre il viaggio nella conoscenza di molti pellegrini si ferma qui incapace di vedere dietro il velo ho capito perché rompeva i coglioni Barbara ha detto che va tutto bene ma un cornetto la renderebbe felice ma sai che tra l'altro è la stessa cosa che sta comunicando Nimera solo che con i biscottini perché ci sono le macine sul tavolo e lei continua a guardarle e a piangere ecco piangere e guardarle questo mind over matter go away come to me stop stop non so come si ferma quindi rouse rouse beam of light beam of light e demon serissimo finto me gioco a scavare bella levati si ma guarda alla fine del gioco saremo i più grandi maghi esistenti e saremo delle persone davanti a uno schermo che si mettono a gridare a gridare beam of light ma quello già succede regolarmente si persino prima di questo gioco lo facevamo si anche nel tempo libero oli mi stai facendo venire l'ansia no allora sai che ora ti spiego il problema è che io faccio beam of light eh ma stai puntando troppo in alto rispetto al tazzillo eh ma non so dove devo puntare perché non posso vedere lateralmente se sto colpendo o no ma tu devi prima sollevare il cazzillo in modo che quando lo cioè devi prima muovere quel diamantino in modo che quando poi non deve stare qui mind over matter mind over matter non posso più muoverlo deve stare qui perché devo fare il rimbalzo lì sopra che va sulla porta come abbiamo fatto l'altra volta beam of light ah ok aspetta tieni il premuto ah se tengo il premuto questo perfetto questo mi serviva mandone facendo uscire pazzo ecco ecco ci manchi in questo di un pozzo però devono aprire le porte te l'ho fatto eccolo era questo dovevo cercare di beccare lì muovendo il mouse e vedendo il visuale ecco si è aperto ora sei minoritata ross collezionavi le figurine di casanova c'erano le figurine di casanova c'erano ti piacevano c'erano sei una bimba di casanova sicuro un oggetto che vale milioni oggi altro che le carte dei pokemon subito recuperare possiamo passiamo ora sì anche qui è dove c'era il solo il penitente può passare agli urli del non morto di dark soul vabbè ma succede comunque succede follow my will no ma è normale non ti fa problemi a holly sai piaceva no dai vuoi veramente dirlo il gabibbo nonna papera a me piaceva il gabibbo dillo che era nonna papera il bello è che in realtà stai mezzo citando un nostro professore ma va bene quella era un'altra cosa però sì erano le gambe di paperina comunque sempre odiato guarda sul gabibbo c'è la storia di yotobi però che mi ha fatto molto ridere sulla gabibbo scomparsa la storia della gabibba scomparsa la blu notte è bellissima dai vedi la vista pure la nonna di cultura molly perchè suoni lo sinofono il vibrafono il termometro tutto bene max si peridaccio mamma mia non si può fare questo nel tempo libro scoprire che fino a fatto quella domanda bimofliette io non ti cagano ma anche qui no no questi mi cagano no vedi se ne sono andato si si se ne torna indietro e non tornate mai più e io adesso vado in un punto che so che devo però non so come proseguire dopo follow my will yolo 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 vai lì yolo vai lì anal wake anal wake però dobbiamo provare anche quando abbiamo attivato il holy smettila di provare a salire là non si può no ma poi anche provare no è finito è che lui non si aggrappa lui si spiace che scivola dà le ginocchiate e gli stinchi contro i bordi delle cose si vede che basta comodissimo non devi essere intelligente per essere un mago stunk vedi ogni volta uno stinco stunk contro è quale tempo libero non lo so mi dispiace rossi inutile bimbo blight è inutile che guardi le macchine di me è inutile ne è inutile vediamo un po' se posso spostare la sedia dnd dice il contrario ok allora cosa che avevamo detto sentila sentila come si lamenta la segnalina è no aspetta come close the anal wake funziona ha funzionato anal wake come over here no come to me come to me come to me come to me non mi lasciare mi sta lasciando io ho detto non mi lasciare se ne va storia della mia vita come to me come to me ok quale altra parola abbiamo da provare no no che era go away com'è che era lontano ora l'ho fatto ok mind over matter mind over matter come to me go away my heart will go home mi piace titanic è vero è un set musica si sta andando avanti ci sono i fatti follow my will no ah devo proprio aprirlo e basta genesi 1 all'inizio era il caos con lo scorrere delle ere il caos si aggregò in un'unica massa fisica altri eoni passarono e l'agglomerato assunse una coscienza esso scrutava ad ogni momento della sua esistenza l'intero spazio infinito e fu così che per un tempo immenso e fu così per un tempo immenso meno effasi questa messa poi scorse nell'universo la nascita di qualcosa che lontanamente gli ricordava a se stesso una volta intelligente una vita intelligente era nata e a quelle ne seguirono molte altre uguali ma diverse tutte accomunate dalle possibilità di cambiare coscientemente il mondo che le circondava così la sua attenzione si spostò dall'osservare senza fine la nascita dalle inerme pezzi di universo a curiosare avidamente nelle vite di questi esseri un giorno però successo qualcosa che lo turbò senza che mai l'avesse visto udito o percepito queste entità viventi iniziarono ad adorare una cosa un qualcosa di non definito e a loro vedere oniscente e onnipotente i nomi che gli attribuivano erano quelli di più disparati ma era ovvio che il caos era che quell'essere ma era ovvio per il caos che quell'essere fosse egli stesso non esistendo nel finito altro di minimamente comparabile mi date un amen per favore amen in praise the lord in media non si sente in live in compenso si sta sopperendo alimentandosi a sua volta piccante no ma in media io la sento forse il volume i livelli si fanno in modo che non si sentano ma in media la sento ogni quanto fa mi ha dato una serie di zampatine sulla spalla ehi fra ehi fra posso avere un biscotto ehi fra ehi fra ehi fra non smette adesso si arresa facendo anche uno sbuffo e mi sta guardando seduta sull'angolo del letto oh ma determinatissima ma non te l'ho mai dato ormai lo avrai in sta magina guarda puoi guardare quanto ti fa piangi piangi e ora sorride c'è la simpatica eccoci qui io devo capire cosa dovrei fare ora allora noi siamo qui qua c'è la zona di l'Ederby Light con l'altare dove prendo l'incantesimo poi c'è tutta la parte del ponte arrivo qui eh e che è là no quello è l'occhio e quella roba verde quelle due verdi sono quelle dei cristalli che abbiamo fatto con la luce ah ok e quindi dove devi andare ancora quella parte della mappa che è cancellata devi andare quella destra no qui c'era un precipizio allora l'Ederby Light beam of light follow my will e mind over mind quindi dovrebbe esserci da qualche parte qualcosa che io dovrei fare per attivarlo e devo risolverlo senza guardare la guida perché se no Ross me la fa pagare ancora no no lascia sta non è vero controlla la guida subito Ross diglielo che non è vero se non siamo qua fino alla settimana prossima beam of light e devo reinstallare e disinstallare il gioco di nuovo esatto beam of light non è assolutamente vero l'Ederby Light ecco la luce li ferma però mi si lanciano addosso che stupidini ciplu le beam of light beam of light come era com'era com'era quell'incantesimo anal wake anal wake cavolo auguro comunque anal wake e c'è fa anche capire come l'hai conservato in memoria quel gioco ecco qua è la zona guarda Barbara qui è la zona quella cancellata e saluta la zona cancellata e vabbè te devi buttare no niente non te la fai neanche godere la caduta cioè proprio ti ha respawnato capito ti dice Nabbo e ti rimanda ti sa te la fai 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 ma infatti ti ti respawno no prendo danno però se non mi respawno quindi evitiamo oh è lo sicuro si guarda ecco qua come quale è così micchia mezza vita in effetti vabbè senza il cristallino blu che è il cristallino blu questi? verde lo ignorano no 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 il cristallino blu come lo chiami? azzurrino verde acqua acqua marina vai che? l'ho già aperta la porta eh no lo so t'ho detto l'ho solo nominata vai avanti prosegui prosegui cazzo schettino cioè non posso dire ah la stanza del cristallino blu che ti fermi ah è quella là ho capito ah no che scemo mind over matter porca droia eh mind over matter bravo unlimited power qui 3000 che è successo? vabbè di nuovo letter delight sono proprio piccoli ance di loro sumo beam of light eh rimangono pure filmi più 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 chiama meglie ma dove l'abbano tutti indaffarati non ho fatto andare mi ho fatto impazzire vabbè vabbè mi serviva la vita si allora cosa abbiamo qui cosa abbiamo qui un pomodoro ah vabbè ormai sei un mago aspetta ah follow my will follow my will appena detto eh follow my will follow my motherfucking wheel in this motherfucking plane mind over matter come to me go away beautiful no mind over matter go away lelele 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 ma sei un eroe follow my will follow my will ah e no troppo avanti Sento che non stai bestemmiando No no Ma è andato a matta Questa si Questo cazzo Ma è andato a matta Devi dirlo in inglese proprio Accento inglese Oh amata Mind of my mind Sì vabbè vuoi dire Mind sto cazzo mi sa Follow my will Insomma Eroico No 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 Prevento Uncharted Gli fa una pippa Ross chiedi a Max di fare tutto il montaggio In cui imprende tutte le volte grieco incantesimo il finite Anche le intonazioni poi dall'uno all'altro è la stessa cosa, tipo l'humus, perché l'humus ogni tanto è stato l'humus, l'humus, l'humusia, vince la trama! Ma che animali su? Eh, fantasy! Ma questo è un anfiteatro! Ehi, che schifo! Quindi? Nuova mappa! Il tuo diario è stato aggiornato! Caro diario, ieri Michela mi ha trattato una merda! Il ciondolo è la chiave, solo grazie a esso sono potuto arrivare fino a qui, l'ultimo dono della mia amata Leif è stata la mia salvezza, anche se lei certamente non me ne aveva idea, vorrei che non mi fosse servito, che ce l'avesse ancora lei. E' morta la fidanzata! Molte cose! Salviamo! Nuova area! Sta scattando e non so perché, e nel gioco scattano in live! E' venuta la crazy! E' riposo anche al lavoro! Sì, certo, qualunque cosa succede, ma com'è possibile che rendi conto non funzioni? Fantasy! No, è fantasy! Mi serve un attimo di pausa, scusate! Prego, prego! Eh, vi lascio che vi sentono, tolgo tutto! Lasciaci che ci sentono, lasciaci che si sentono, lasciaci che si sentono, siamo come dei fagioli, degli aeroplani, come va? Bene, bene, top! Top! Io ho un cane addosso! Il cane è stato appaciato mettendolo sul grembo della patroncina, come si dice in Inghilterra! Non mi piace patroncina! Infatti lo dicono gli inglesi, non per niente! Anzi, doppiatori italiani! Degli inglesi, quindi non è neanche vero! E queste sono le nuance della storia sociale italiana, europea, globale... Senti, ma sto capolavorone di gioco è lungo! Dobbiamo scoprire ancora una fraccata... Eh, infatti, mi fa strano! A me in story mi dicono 11-12 ore! Ah! È un affarone serio, un affarone martellone! Non si parla di Inghilterra, troppo presto! Quante sono le magie in totale? 16! 16 incantesimi! Ora quant'è ne ha? 4-5? 4! Sì, no, ebbè, Mind Over Matter erano 3! Quindi sarà almeno a 5, forse! No, ma a me conta per 1, ovvero! Non te le do le immagini! Com'è dispiaciuta! Sì, sapendo dove andare ci metti pure un'ora, però vabbè che vediamo, ora ti dico la speedrun di Inverbis Virtus, che sicuramente esisterà! Per dire, tu! Tutta glicciata, magari! Tutta glicciata! 40 minuti! World Record! Perfetto, esattamente! Magari si scopre che non li devi sbloccare, non li devi imparare! No, no, c'è neanche una da 37, 38! Tipo a magica non c'è bisogno di impararli, se rigiochi il gioco li sai a memoria, li puoi castare! Ah, tipo stile Castlevania! Basta da vedere! Castlevania! Quale è un po' più difficile, perché comunque alla fine basta dirgli, quindi... Sì, ma è una cazzata! Questo è più il valore gimmick di usare il microfono per giocare... Che comunque è una gimmick alla quale la Nintendo era arrivata già 20 anni fa, ma vabbè! Vabbè, a Nintendo ti prendeva pure, non lo so, l'anno e ti lo faceva controllo, non lo so... Sì, sì! E ti chiedeva pure 200 euro, però! Esatto! Con magari cose che si dovevano ricambiare ogni uso! Ma pure la Switch, alla fine, è una delle prime stronzate che ho notato, era che puoi soffiare nei controllo... Per fare andare avanti il giocatore, tipo queste cazzate... E la roba, no, ce l'aveva pure il Nintendo... Sì, sì, è vecchio, l'hanno brevettata da un sacco... Un po' quelle cose che c'ha il brevetto e quindi le usi, e basta! Queste sono quelle cose che è bello? C'è un microfono in me... C'è un microfono super pezzotto e capisce solo... Sì, no, infatti c'è il valore innovazione che non è male, perché poi le usi pure in modo più utile, volendo... I comandi vocali nei videogiochi... I comandi vocali, assolutamente! Non è, ma poi tra l'altro, guarda, sul soffiare in particolare c'è tutta un'intera letteratura scientifica sul fatto che si può usare come mezzo di controllo per chi non ha l'uso degli... Esatto! Assolutamente! Ma non è questo l'uso che ne fa la Nintendo, però... No, però se tu hai la Nintendo che... Sì, guarda, però non sono loro, cioè chi si merita questo tipo di attenzioni e valutazioni è stata molto, secondo me, la Microsoft con... Xbox... Ma io non stavo facendo complimenti alla Nintendo, stavo solo dicendo che... La categoria... La passione per questo genere di cagate, in realtà, finanzia roba che poi serve... Vabbè, sì, 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 sono d'accordo, però... Anche l'intenzione è importante! E quelli di Xbox hanno tirato fuori proprio un controller bellissimo, che è fatto apposta per le disabilità, che copre un sacco di necessità diverse... Quel tipo di roba mi piace assai assai... Con i controlli oculari... Quello non so se l'hanno fatto per i videogiochi su scala grande, però... Magari fai World of the Record... Capito? Il controllo è più... Vabbè, sì, là sì... Vabbè, fai la speedrun in quella categoria, ci sai... L'headshot... Sarà poi pure chi è più bravo in quella categoria e chi è meno bravo in quella categoria... Ti immagini quando fai il controllo ad headshot con la pupilla? Perfetto, papapà... Alla fine è come la speedrun di Dark Souls con le banane... Non la sapevo qui... Ah, quello è bello! È bello quello con le banane! Quello con le banane è molto simpatico... E' bella male! Banane usate come controller... Fantastico! Solo adesso il letto rosso come ha reagito alla nostra conversazione... È perfetto perché adesso... Oli legge... Di meriuccia, hai rotto i coglioni! Hai rotto i coglioni... Sì... Hai rotto i coglioni tantissimo stasera... Sì... Sì, come sei bellissimo... Come sei bellissimo... Pure quando rompi i coglioni è troppo... Non sei piccolo... Sei mutato, Oli? Sì, sì, adesso riprendiamo... Adesso è più mutato, Oli... No, no, adesso riprendiamo, anche se quanto pare sono pessimo... Sì... 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 Il bello è che a dire brava... Si è sentita come in volta di nuovo con Imeria... Che ne siamo punti da capo... Sì... Sei brava... Sei brava pure tu... Sì... Sei molto bravo... Quindi... Com'è andata la pausa? Vi siete divertiti? Sì... Ci siamo divertiti... Ci siamo... Messi a discutere di innovazione tecnologica... Nell'industria dei videogiochi... Nell'industria dei videogiochi... Ma lo conosci... Magica? Sì... Eh... Quello sarebbe carino da portare... Sì... Sì... Serve carino con tutte le combinazioni di magia... Rip... Singleplayer... Multiplayer... No... Multiplayer... Capito... Si può fare tanti... Se sbaglio... Fino in quattro... E c'è pure il fuoco amico... Cazzo... No... No... Ti ho chiesto se lo vorresti fare... Multiplayer... Singleplayer... Cazzo... Ecco... Cazzo... Sì... Non puoi andare dalle mani... Eh... Ma io ho già giocato in singleplayer... Ma è anche multiplayer... L'1... Il 2... Non l'ho comprato su PC... Perché c'era sulla PlayStation... Non lo posso pure comprare su PC... Tanto non costerà un cazzo... Anzi... Quasi... Mi ho comprato... Così... Ma... Tranculo... Scatta il gioco... Non so perché... Ah... Un problema in quel punto lì... Gli viene... L'ansia... Ok... Qui mi stava nuova in tantesimo... E si stava tanto risolli... Qua... Magica... Un altro gioco divertente da fare insieme... E... 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 Bello... 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 Stanno un cazzo... Divertentissimo... Un altro... Un altro gioco divertente da fare insieme... E... Trine... Ma ce l'ho presente... Io no... Come si chiama? Questo gioco è catcalling... Contami... 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 No... Questa sentenza magica... Uh... L'incantesimo... Cura... Pessimo di mio... Grazie... Conoscerne i meandri... Ti concedi di impartire gli ordini... E questi ordini... Possono essere di morire... Come di vivere... Il tuo guscio è fragile... La tua mente è forte... L'equilibrio è la chiave di questo universo... Solo gli esseri viventi che spostano... Sono gli esseri viventi che spostano la bilancia... Anche loro... Non hanno equilibrio... Non più... Essere in equilibrio li attira... Diventi come una increspatura... In una pozzangara quieta... Come uno spruzzo di sangue in un campo di fiori bianchi... Se la salvezza del corpo cacere chi potresti non trovarla... Curando la tua carne... No no... Rosso... Per niente... Sportivissimo... Scusa... No no... Non me la sono presa per nulla... Poi andrò a vedere anche che è successo... I pericoli di questo luogo... Non parlava di adesso... Eh? Non parlava di adesso... Sì sì... Ma poi vado a vedere perché sono stato definito pessimo... Ah sì... I pericoli di questo luogo spesso sono molto concreti... Non dirado... Sono rimasto ferito... Per fortuna ora la magia può soccorrermi... Anche in questo... Usando la formula... Heal by water... Quando mi trovi uno specchio d'acqua... Il mio corpo si rigenera dalle sue ferite... Ok... Io non sono per nulla... Mi incazzo e basta... Magia... La porta... E... C'è il blocco... Si è detto di tutto... Sono stati trati in mezzo i parenti... Le linee di sangue... Bravo... Ah quindi Ross ha parlato di mia madre... Ross non ha solo parlato di tua madre... Ha sussurrato di tua madre... Che peggio ancora... Barbara per caso Max ha preso un colpo di sole... Come hai chiamato mia madre? Cosa Ollie? Oggi Max ha preso un colpo di sole... No 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 no... Oggi... Siamo una meraviglia... Follow my will... Ottimo tempismo... Follow my will... Nooo... Ma poi era aperto... Si... Chalalalala... Chalalalala... Fly me to the moon... Ok... Brenda l'incantismo salvo con me... Danno... Se lo sapeste... Lè... Willa me... Weasple me... un incantesimo c'è c'è un incantesimo ma non riesce a prenderlo secondo me vino e pignatta funziona per mind over doveva fare mind over matter però va bene vino e pignatta niente l'ha preso l'ha preso a beam of light follow my will no 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 ma tu puoi fare follow my will cos'è successo? l'ho preso in faccia semplicemente non sei morto esatto beh dai che strategia è piaciuta no no mi è piaciuta grazie dimmi che ah ok fustro da i templi del culto dell'ordine non sono sempre stati luoghi desolati in un tempo lontano non erano solo visitati da numerosi doratori ma erano anche abitati da creature che avevano lo scopo di servire loro e gli stessi templi ok senza maiuscola tali esseri provenivano da molti mondi diversi e non sempre erano del tutto naturali alcuni hanno stati creati espressamente per svolgere certi compiti dopo millenni di declino poche di queste creature sono sopravvissute e le loro anime sono state corrotte dalla tortura di vivere in questi luoghi ormai maledetti quindi esse non devono più servire ad alcuno scopo e sono guidate solo dall'istinto, dalla rabbia e dalla sofferenza tra gli abitanti del tempio forse i più numerosi sono i Saevar un tempo operai laboriosi e agili, in parte viventi, in parte meccanici potevano svolgere compiti anche molto complessi grazie ai loro tre tentacoli oggi sono invece solo bestie impazzite per il dolore facilmente riconoscibili dalle gigantesche zannute bocche verticali che nascondono i loro volti sofferenti l'ultimo per l'uomo di ragione e civiltà che possono mostrare è il fatto che talvolta si muovono in gruppi il che li rende ancora più pericolosi ok mei coglioni led del belight boom abbiamo anche i nemici ora charbilight ciao ecco il nemico fagli fagli beam of light beam of light ambe si vede proprio che non ti reagisce e beh si è bloccato per il cacciocato hai capito prendi la magnum nooo si fa tutto col coltellino e che coltellino e che coltellino vabbè sei morto grazie per la fiducia ma sta musica ho capito ma sembra una cazzina tipo è morta la protagonista con questo che ti insegue di tutto 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 ho avanzato il riesce a riconoscere il nome del giocatore follow my will se lo prende dalle due registrazioni anna alway sento dal ruolo dei passi ogni tanto incerto si ferma il tuo cazzo ma chissà bimbo flight ma allora se dobbiamo perdere il tempo in due vedere che devo andare in fondo ecco le fiamme vedere che ho sbagliato vedere che non sto vedendo qualcosa di palese infatti follow my will no ok mi ha solo dato una volta follow my will eccolo che ha fatto che ha fatto follow my will che ha fatto ha aperto la pericina ah perchè si deve chiudere lo devi imprigionare ha imprigionato si a posto vai via ciao 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 quello è uno spell non ancora ottenuto ma tra l'altro tu non ti puoi curare dicendo heal by water eh ma serve l'acqua ah giusto senza la water dove cazzo ti heali sputi a terra con lo sputo però effettivamente eh siamo 70% acqua no eh ma gli spell questi sono ma quella è la terra adesso però mi è venuta in mente una possibilità ma muoio eh follow my will ma per fare che non si è aperta la porta ok perchè c'è una porta qui pensavo si è presso ciao lentamente poi mollo si accascia il colpo alla strega è qualcosa sbaglio non so cosa no ma c'eri c'eri solo che lo spell per quella porta non ce l'hai no stavo pensavo è perchè c'è anche quello del comando all'interno ma non so se l'ho attivato heal by water non ce l'ho heal by water heal by water heal by water non pa non pa non pa un pa di due milcantesimo c'è heal by water heal by water ohhhhhhh ok vado a salvare e vedo la mappa heal by water No, non ce l'ho Non è bene Harry Potter Harry Potter Harry Potter Ok, allora Io sono qui L'Elderby Light Eh, sì dai, pulitissimo Dove vado qui Allora, fiamme Charbischar Eh, non riesco a riconoscere i simboli No, manco io Ok Questo Quindi quello è la magia No Vabbè, che c'è? Proviamo a rifare quel percorso Ma stavolta faccio la cosa rischiosa Prima salve No, ho salvato No, niente rosse Che mi sto perdendo Perché non riesco più a capire Come devo leggere la mappa La prima era più semplice Allora Fiammata che arriva Io corro Tutto qui Follow my will Rilassi Follow my will Andata bene Tell me why You follow Follow my will Non lo prende lì Ma che cavolo E mi ha danneggiato Si parte bene Ora Se io scendo lì Aspetta Allora Provo a correre qui Forse il danno Non lo prendere No Ok La di mezz'ora Facco il posto Berleffi Berleffi A catinelle Così Via 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 Veloci Cos'è così Game of light Game of light No ma È un simbolo utile È una lanternina mi sa Simbolica Stai contando i cristi Che vorresti lanciare No I secondi Follow my will Prendo la fiammata in faccia Follow my will Fa il gesto Mi serve arrivare Full vita lì Si Forse non devo farmi prendere Ansia dall'incantesimo E lanciarle e basta Quando sono vicino Non prima Non se lo prende Forse Allora Follow my will Eh non follow Allora non la will Si Arriva l'incantesimo Ecco qui Via Follow my will Bene Ma aspetta un attimo A digilo Perché al primo Sei molto più vicino Quando lo dici Follow my will Oh bene Ce l'ho fatto Fenomeno Ora se io corro lì Me ne devo prendere due in faccia Mi conviene No Devi farti questo Ma ti sei fatto prima Ora le stai pure Beam of flight Beam of flight Beam of flight Dì Gianfranco stia fermo Gianfranco Signor Cipi Ecco sarebbe carino Se avessero messo qualcosa Tipo un'animazione Che quando avevo colpito Me ne accorgo Follow my will No Dice solo Follow my will Follow my will Follow my will Follow my will Err Ma quindi quella dentro Ha fatto qualcos'altro Follow my will Ah la apri dentro Semi block Semi block Follow my will No ok Allora lo devi fermare Col beam of light Follow my will Beam of light Follow my will No Beam of light Ma che fa Ti ha cagato in mano Follow my will Follow my will Beam of light Ma L'hai ucciso? No Secondo me si E mi è sembrato Che l'hai schiacciato No? Ah Si Ho il massimo Manco me ne sono accorto Si perché si è spi- Eh perché non c'ha un'animazione È semplicemente sparito Eh ma intanto ho visto come funziona quel coso Devo entrare qui Follow my will E poi correre Perché si ha Non ho saputo perché Follow my will Follow my will Follow my will Mi serviva dentro il tipo Perché? Credo mi servisse dentro Perché attivo quello Ma Allora A mia Io ho visto La porta in fondo Quella la Aperta prima Follow my will Follow my will Scusate Senza Sia Si apri Ok Fa vede quando si chiude Appena mi trovo le cose rossi Si Follow my will Ok Eh niente Devi Dobbiamo Quindi In realtà Non l'ho schiacciato Perché non dovrebbe morire L'ho fatto andare sotto Si Si è buggato E basta Ero riuscito a fare anche tutto quanto Full vita Si Follow my will Eh Follow my will Uno di noi Uno di noi Uno di noi Pidee Prega Comunque mi schiatto sul letto Vai Franco Vai Frankio Franco Buona combinazione Follow my will Follow the will Let her be light Final wake Follow my will Follow my will Oh Per il rotto della cuffia Follow my will No Sì Che culo Sì Questo è il best gioco È il game of the year Sì Sì Il tizio Il mostro Sparito dal gioco Senza volerlo Mi è piaciuto Soprattutto di più Di tutto il resto Follow my will 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 Lui lì dentro Ok 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 dai bravo resta lì resta lì resta lì resta lì resta lì Ci abbiamo fatta Grande fenomeno Sides count Voglia di vivere BAME OF LINE Lo prende questo Bello Bello Delicatissimo No ma in realtà mi diverto sto gioco e quando incomincio a fare queste cose che devo ricominciare da capo perché non ha preso qualcosa ho dimenticato Delicatissimo Sì Solo a chi era senza alcuna brama di potere portava nel cuore in studia poteva essere insegnato il potere del marchio di fuoco Questo diventa Giustizia Eh? No Giustizia Giustizia Eh se legge grazie Scusa ok Prego Giustizia Giustizia Oh a Giustizia Giustizia No non la so a Giustizia A etero A etero che è nato a Giustizia questi diventano di justitia ed erano caricati di far rispettare l'ordine usando il loro potere solo dove l'assenza di ai qualitas veniva tradita no let there be light let there be light mind over matter c'è qualcosa, devo fare qualcosa ma, mind over matter no allora devo scavocare ma no, perché poi sude, che cazzo c'è mind over matter come over here come, come over here come, come over here come, come over here Beethoven? no, get over mind over matter get over questo dice molto dell'inglese dice come quelli di Bloodborne get away go away hunter hunter niente niente, n'è servito un cazzo questa è la stata della justitia ah no, scusami era stata d'indro montanelli mind over matter salutiamo indro non posso buttarla giù mind over matter e quindi è quella di indro confermata babadoo babadoo si no me ne ha parlato il brother in effetti babadoo com'è? mind over matter è un'ottima icona della comunità LGBT ah sì? non sto scherzando ma è per errore per Netflix c'è finita in America no, non lo so più no, non so niente però in realtà sul film mind over matter no, ma è solo perché perché la su Netflix il catalogo Netflix era finito dentro il catalogo LGBT ah, per sbaglio per sbaglio è un horror ecco e c'è finito per sbaglio solo che la comunità LGBT l'ha presa sullo scu... ridere e allora nei pride capitava che vedevi manifesti con sopra babadoo babadoo ah, simpare divertente io sono qui cosa devo fare? eh mi hai ricordato la skoda no, quello sì perché non puoi essere perché non puoi essere normale ah, quel meme sì, quello mind over matter come over here ma tu hai capito qualcosa io non ho capito proprio un cazzo no, ma nemmeno io mi oriento proprio ma sei stato proprio rincoglionitissimo ma per cosa? di cosa stai facendo? cioè di cosa devi fare ma manco io lo so sto improvvisando ah, ok tu sposti statue così mind over matter no, eh mind over matter sì, no, non è che sposto statue ma mind io solo due cose posso spostare qui mind over matter il sasso è la statua il sasso è la statua e allora facciamo la scaletta eh, sì e saliamo su tutti i pizzi, sì eh, qua ecco qui follow my will follow my will ma tu pensi a mind over matter topazia no è niente non si può non si può lo metto qui per sicurezza ah, dici se si chiude eh, non vorrei che non dico così baggaggio con questa cosa justitia eh, amico hai qualche consiglio? no e dobbiamo trovare con l'incantesimo quella che dice eh, qua era quello che mi diceva di Ieraldi ah, eh Ieraldi justitia questi solo chi era senza alcuna barma di potere portava nel cuore justitia e poteva assegnare il potere del marchio del fuoco ok quindi c'entra però con il marchio del fuoco sta facendo sì e come c'entra? quindi devi essere privo di potere che si intende con privo di potere? no privo di eh brama di potere che è anche peggio perché è una cosa molto del cioè molto astratto sì magari c'è un questionario che devo compilare? scusi lei da 1 a 10 quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni? mi sento che ho molta brama di potere 1 completamente in disaccordo lei complimenti lei è dentro al posto di lavoro complimenti lei è al marchio di fuoco lo può chiamare Dracass fritz ah aspetta vuoi vedere che era una cavolata tipo mind over matter poi dritto dritto ti voglio dritto bravo mind over matter follow my will follow my will mind over matter follow my will follow my will mind over matter come here release mind over matter no eh follow my will mind over matter follow my will niente ha capito il tuo gioco mind over matter non si fa fottere non si vuole fare fottere follow my will no niente perché c'è quel cosetto lì che pensavo si dovesse raggiungere ma ah che scemo mind over matter mind over matter era semplice mind over matter mind over matter came here come here c'è un sasso in faccia all'improvviso stay here come here come ah non abbiamo provato la cosa più semplice però mind over matter accio repulso repulso lo avvicina beh accio filipendo mind over matter implodi imperi no aspetta avade kedavra lo avvicina vediamo avade kedavra lo avvicina crucio avvicina avvicina senza perdono una sì è sempre senza la I ma ti spiego pure perché ho lì questa cosa di filipendo questo fraintendimento a me piace filipendo ok aneddoto mini aneddotino mini aneddotino allora qual è l'origine di filipendo perché è lì che ci si incula il cervello perché tu ti aspetti che sia una cosa latineggiante e invece no invece no flip endo flip significa flippare semplicemente viene dal verbo to flip che semplicemente cioè far cadere la gente e questa è capito una cafonata ok brutale flip flippalo capi come se avessi fatto flippalo dicevo ci metto un endo così suona latino è brutto infatti pure io ci sono rimasto male cioè non è una parola io perché mi ricordo che ci giocavo da Harry Potter 1 per la playstation che c'era sto cazzo di flippendo e io non capivo che cosa dovesse significare e invece probabilmente per gli inglesi era ovvio che era un gioco sul flippare la gente chissà follow my will ok quindi è flippendo no follow my will si quindi è flippendo e devo dire che dimostra anche una certa bassa creatività bene ecco come potremmo dire noi degli altri incantesimi che vanno a richiamare il latino si però capisce rispetto ai vari proteggo capisce agli altri almeno questi parole che ti sento ti sento devo lanciare incantesimi tranquillo si è la scusa follow my will si dice mi sembri ingrassata quarta maledizione sono senza me no 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 follow my will no no follow my will beam of light follow my will follow my will sono senza vita né nulla né voglia di no è ancora fuori sto stronzo solo my will follow my will follow my will come here come here come here quelle maledizioni sembrano più maledizioni che uno si ritorce contro i sei nel momento in cui lo dice che uno si ritorce oh beam of light perso shh no 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 i will beam of light mamma te è molto carino io ti suggerisco di provarlo non so se era una battuta volevo offendermi in qualche modo va bene beam of light beam beam of light l'ho cercato la prima volta poi ha smesso bene sai tipo il momento in cui hanno scoperto la formula per risolvere col vaccino bisogna fare la corsa abbiamo 24 ore ce la faremo maria ce la faremo catturare uno zombie forza anche un pochino marz si la musica un po' lo ricordo no follow my will follow voila la mia will follow my will allora dai dai attaccami sono qui ma gli puoi fare ma gli puoi fare mind over master a lui no follow my will no no è fuori è fuori follow my will follow my will follow my will la follow la follow a quando vuole ma perché lo devi beam of lightare o lì follow my will beam of light no da dentro maledetto guarda andato e fermato sull'entrata beam of light sta pensando ah guarda adesso non ci è stagherato ok adesso si no ok si ecco qui beam of light follow my will ok ok allora si adesso follow my will follow my will beam of light follow my will follow my will ok alleluia ok entro qui science matter science count mind over matter mind over matter dai non mi va discutere ora programma dai non mi va allora ho detto mind over e dai mind over matter mind over matter follow my will mind over matter mind over matter mind over matter mind over matter ma adesso non è che appena prendi un granello di polvere di bloccarti eh go away stop it quindi 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 dopo questo avvenimento che è successo con questa zia che è ancora fra noi lei o tu e tua madre l'avete sistemata mind over matter mind over matter mind over matter mind over matter beam of light a mamma get over get over stop it bene mind over matter benissimo benissimo get over che non mi ricordo qual'era l'originale no no come here come here ti ti metti più dritto mind over matter adjust your position mind over matter put yourself vertically thank you eh dai è risotto spettacolo spettacolo si scherza twitch non è che però una persona ha fatto del body shaming pesante e uno non se la prende cioè twitch c'è anche un limite certe cose aspetta che si è buggato Oli aspetta che adesso Oli non esce più da qua mind over matter ah te l'ho detto basta un granello di polvere eh no perché non avevo capito che ti eri fermato apposta no no si è bloccato no no si è bloccato qui si è incastrato ah c'è avuto un problema sì sì lo stipitino classico da di mano sai ah cazzo fai perno fai perno pivò pivò il marchio di fuoco oh il nuovo incantesimo ah qui però era bellino fare boom notte rosse ciao rosse notte rosse intanto adesso impariamo tutto quanto e finiamo il gioco vai tranquilla lo finiamo in 13 secondi ah Marco fire il Marco unleash the flames il fuoco purifica la carne libera la mente dal suo guscio il fuoco è da sempre il nostro miglior amico ma queste parole sinnaturano la sua essenza noi le usavamo sui nostri amati permettendogli di vivere di nuovo di nuovo staccato come i loro veri sé che ha concepito queste rune voleva però stupidamente usare le fiamme per impedire ai suoi nemici di arrecargli danno incurante delle menti così che delle menti che liberava che così liberava la carne è l'unica prigione per una mente le fiamme è l'unica chiave se per te il fuoco è un'arma bada con attenzione contro chi lo rivolgi tutte le menti che libera restano con te per sempre la magia non permette solo di creare manipolare ma anche di distruggere la frase Marco fire scaglia un marchio che si attacca all'oggetto colpito e dicendo unleash the flames esso esplode bruciando e devastando tutto nelle immediate vicinanze per sfruttare l'intera potenza dell'incantesimo tuttavia occorre attendere che il marchio abbia completato il suo periodo di carica cioè qui sta dicendo che quando io se io uccido qualcuno la sua anima rimane in me Marco fire molto carino e non tiri le pallette eh le pallette no lancia i sigilli guarda guarda è lì unleash the flame ha dimenticato il suono quindi praticamente piazzi la bombetta e poi la fai esplodere sì Marco fire lancio aspetto Marco fire unleash the flame eeeh li fa entrambi fighissimo let there be light salva già mi sembra ottimo sì questo è importante ora abbiamo un nuovo potere abbiamo due nuovi poteri uno praticamente inutile se non c'è dell'acqua follow my will e infatti servirebbe una pozzanghera in questo modo ah ecco qua heal by water ah guarda qua spettacolo I'm god Marco fire Marco fire Marco fire no Marco fire Marco fire Marco fire ma che è un amico tuo sto Marco fire sì ma Marco fire ma tu chi cazzo sei senti Marco ma tu unleash the flame guarda là vabbè stupendo non male non male non male mi riccio tutto porta in faccia ma che succede? non c'hai dolori che c'hai gli arciacchi no 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 qualcosa mi danneggia lì è intrutto e vuol dire che ha tempo heal by water heal by water ma senza water no ah no c'hai la water ah bellissimo hai capito hai capito hai capito capolavoro heal by water heal by water viva flight campione cazzo volo no mi stiamo sublocato la strada heal by water uh cos'è lord non devi vedere devi osservare se non hai trovato la via significa che molti tagli grazie heal by water allora qualche elemento in più che mi mostra cosa mi danneggia non mi dispiacerebbe andare giusto per capire heal by water heal by water boom of light marco fire marco fire marco fire malice la fe così sono arrivati i tedeschi però malice malice heal by water marco fire marco fire marco fire marco fire che poi non ho capito perché questi maghi non hanno tagliato corto facendo la palla del fuoco invece che piazzare il marchio di fuoco e far esplodere il marchio di fuoco questo per spiegare come l'orto perché sono pessimi veramente pessimi una cosa devi fare con le venti maghi imparare e creare palla di fuoco e loro facciamola a due pezzi in più devo ricaricare come è cioè scusa fai ball of fire che cazzo ne so flame thrower è in più beam of light oh no devo lasciarle di stare basta corro beam of cack Cacca cacca vediamo se funziona Marco Faya Marco Faya Marco Faya Marco Faya Unleash the flame Ok la fama piccola Marco Faya Marco Faya Marco Faya Marco Faya Marco Faya Marco Faya Unleash the flame Bello Molto carino Questo mi piace molto Healed by water Marco Faya Unleash the flame Marco Faya Marco Faya Marco Faya Marco Polo Alise the flame Healed by water E' andata così E' vabbè Di nuovo? Ehi! I don't matter No 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 Healed by water Healed by water Top Eh? Eh? Perdersi vuol dire che si è scelto di non porre attenzione al percorso che ti ha portato sin dove sei Sensazioni superi Sensazioni superflui ti hanno distratto e hai perso il vero scopo del tuo intento che è il cammino del pellegrino Eeeh Guarda Mi fido Lo svegno No 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 ma ci credo eh Cioè Semmi grande Qui qui dimmi che qui con Marco Faya Marco Faya Unleash the flame E curiamoci Healed by water Bello sempre Ecco come hai detto perchè non hanno fatto la palla di fuoco eh? Perchè non hanno fatto anche con una borraccia in banano posso guarirmi? Devo buttarmi dentro a... Si Ne effetti la fiasca Però sai questa Lo so C'ha un valore di gameplay che posso anche capire Si Cioè Cioè Almeno così non è che mi posso curare ogni due per tre Eeeh Ti mettono ste pozzette d'acqua Vabbè Però Cioè Allò Conte Dracula Bella questa E ricorda nell'astronave di Alien Si infatti mi piace molto il... i colori di questo pezzo Cioè Segui la mia will Segui la mia will Segui la mia Mind over matter Mind over matter Beam of light Beam of light Mind over matter 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 Follow my will, mind over matter, beam of light, beam of light, guardarti Giulio, mind over matter, cosa Barbara, se solo guardarti io questo genere di enigmi non ce la posso fare, follow my will, se non lo prende così, mind over matter, mind over matter, beam of light, mind over matter, beam of light, mind over matter, mind over matter, mind over matter, beam of light, mind over matter, mind over matter, mind over matter, beam of light, beam of light, a me questo enigma mi sta facendo un mal di testa processarlo, e hydro, se non lo prende così, save me, mind origlehemente, mind over matter, segui la mia willa mente over matter mente over matter come here come over here beam of light mind over matter come here come here mind over matter mind over matter che scemo è la semplice qua mind over matter se collabori è un'altra cosa mind over matter no dov'è mind over matter 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 mind over k mind over mind over mind over Mi hai risolto il mal di te Mind of Light Mind of Mother Mind of Motherfucker Ah no Mind of Motherfucker Allora tu qui Mind of Motherfucker E poi Beam of Light No, devo trovare un modo per bloccare lì Mind of Motherfucker Mind of Motherfucker Mind of Motherfucker Beam of Light Mind of Motherfucker Mind of Motherfucker Beam of Light quindi tanto resistimento beam of light mind over matter mind over matter mind over matter mind over matter beam of light tu sei al posto, ora devo bloccare te come ti blocco? follow my will mind over matter come here come over get here stay qui come at me bro vieni qui beam of light mind over matter mind over matter get over beam of light c'è non altri requesti mark of fire and lead to the fire mark of fire and lead to the flames follow my will beam of light beam of light mind over matter follow my will follow my will follow my will no mind over matter beam of light beam of light beam of light follow my will ma che è follow my will follow my pazienza veramente and see where it leads follow my will mind over matter mind over matter come here come here get here beam of light beam of light and see where it leads 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 Release the flame First flight Mind over matter Come here Come here Come here Come here Livello Oui, oui, oui Mind over matter Beam of light Mind over matter Vieni Vieni Prima flight Ma è troppo alto Qui è troppo alto Non posso di follow moving lì Mind over matter Mind over matter Mind over matter Mind over matter No? Non Viens ma in dopper master ma in dopper master io ho già fatto la guida si ma non l'avete proprio no no pure io pure io infatti holy se vuoi guardarla mindover matter mindover matter mindover matter dicole mindover matter come va holy? mindover matter allora domani che programmi hai? mindover matter bimov light bimov light no ma nella notte mi sveglio all'improvviso dico ragazzi vado in live ho trovato la soluzione a quel punto però devi far partire un giro di chiamate ai cellulari ti posterò anche le 3.22 di mattina Francesco ho un esame domani frega cazzi collegati ho risolto l'enigma allontanati get over mind over matter sto cercando di rompere il gioco mind over matter deve esserci un modo perché io piazzo quel coso che mi blocca qui mind over matter vieni vieni mind over matter beam of light mind over matter get over vieni mark of fire 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 unleash the flame mind over matter mind over matter beam of light beam of light niente ho anche bloccato il coso abbiamo finito per stasera guarda veramente hai resistito molto mi stavo proprio chiedendo quanto veramente mo lo disinstalla quanto manca il disinstalla no guarda probabilmente se lo disinstalla lo vedete in live la prossima volta se vado a vedere qual era la soluzione no infatti lo dobbiamo sapere come cazzo cioè almeno vedere il in cui si risolve lo risolvo e disinstalla ok esatto poi basta era così è sbagliato non è così che funziona un puzzle disinstalliamo esatto vado su doom a dire beam of light che dà più soddisfazione bravo va bene ci sta per stasera abbiamo finito dai grazie mille per chi ha visto il video perché ci ha seguito perché è riuscito a resistere perché ci sta guardando su youtube grazie e dagli così ci vediamo questa settimana ancora domani sera forse non si sa giovedì sera probabilmente venerdì sicuro domenica chi non sabe grazie mille vai così ottimo ciao settimana così ciao buonanotte a tutti e alla prossima salutate? no